Nuovo video di Fortnite, nuova challenge, vuoi sapere cosa facciamo oggi fare? No! Non possiamo ricaricare le armi Ecco perché non lo volevo sapere Steph! E in poche parole ogni volta che finisci un caricatore dell'arma, anche se tu hai altri colpi di quell'arma, la devi buttare a terra E ne devi prendere un'altra E ne devi prendere un'altra, se la trovi, se non la trovi hai un'arma in meno E rimani senza Poi un'arma in meno ancora, poi un'arma in meno ancora E come pensi di giocare Steph? Come? Bisogna sparare molto poco e molto bene Ecco appunto Semplice Appunto, come pensi di giocare Steph? Non vedo problemi Ti ripongo la domanda Guarda Ferre, ti dico Quando il taglio ti porta anche a boschetto, capisci che il gioco ti sta dando Ma guarda che ormai a boschetto ci va un botto di gente Eh ma rimane la nostra città No Mettitela Hai ragione Porca miseria, vuole giocare senza cuffie questo qua Scusate Ci manca solo che non senti suoni, doppia challenge, capito? Colpa mia, colpa mia Mi dimentico Ok, allora fra poco dobbiamo scendere Dai, secondo me l'importante è avere quattro armi Proprio un botto di armi in modo tale che, sai Eh però allora devi togliere spazio agli shieldini, alle cure Esatto, vuoi sapere l'arma più forte per questa challenge? Il minigun Eh Quello sai di averlo per sempre Perché? Perché non ricarica mai il minigun Vero Mentre l'LMG comunque è fortissimo perché 100 colpi lo ricarichi dopo un bel po' Quando lo dovrei ricaricare lo butti Però almeno Se trovo il minigun comunque è bella Come si dice? Bella dritta Lo so Lo prendo Anche secondo me non è male Non faccio in tempo a vedere se c'è gente perché sono bassino Non so se tu hai visto Ne vedo due E dove? In cielo, sopra di me Mitraglietta Vediamo se lo prendo Dov'è il maledetto? Dov'è sceso? A chi hanno preso? Io a lui ho 86 di vita E ho dovuto buttare il caccia perché ho sparato l'hit Cioè questo stava guardando a te non si era accorto che c'era un'arma Fane killalo Fane killalo E poi butta quell'arma Rapporaccio Cioè è stato proprio Ok quindi Ho sparato con il caccia un colpo L'ho dovuto buttare Non lo posso più raccogliere Perché appunto Un caricatore di quello è un colpo Quindi non potrò avere i cecchini Allora quindi questa la devo buttare Almeno questa è meglio Anzi però non ho ancora finito il colpo Ah non è finito Ancora 19 sono Quindi Però ora ma la tengo Non si butta via nulla no? No Eh boh Qua non buttiamo niente Finché non si ricarica Io uso tutto Anche perché sto trovando solo mitragliette silenziate Quindi preferisco tenermi 19 colpi Della mitraglietta normale Questo mi dispiacerà buttarlo Questo mi dispiacerà buttarlo Senza ombra di dubbio Ok Io guarda te lo dico già Se trovo lo scar Ah ah Ok E seppure leggendario Io non lo uso più ma me lo tengo nell'inventario Perché non lo butto e non lo do a nessuno No 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 Vuoi dare uno scar leggendario ai tuoi nemici? Beh ma ti togli uno slot arma Perché esso già che puoi? Sapendo che devi buttare le armi Troverò di tutto E mi andrà sempre tutto benissimo Perché è sempre così Steph Beh io per ora ho un M16 blu Che mi dispiacerebbe buttare No no ancora la mitraglietta è un tattico bianco E ho trovato solo questo quindi Ok E non abbiamo visto dove è sceso l'amico vero? Io l'ho visto era nella casa di fronte al market L'avevo visto dal tetto Qui? Sì Sì è ancora qui Nel tetto l'avevo visto Amico Però ho trovato una mitraglietta viola Cambiamo Cambiamo arma Più colpi ed è pure viola Bella quella Sì Amico No No bene così Amico No 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 bene Allora Se io switcho questo Ha più colpi Quindi perfetto E se switcho questo Quanti colpi ha? 3 perché le ha sprecati Maledetto E questo quanti ne avrebbe? 8 perché non l'ha utilizzato Quindi mi potrei bere questo slur Per riprendere anche il cechino Ok E sono morti Non c'è più nessuno in città Ok perfetto E praticamente c'è il pompa nuovo leggendario Ok Però solo 3 colpi Va bene Perché il tipo ha sparato a caso su di me Avrà sparato anche con le M16 E non l'ho usato io 22 colpi Non è male 22 Vabbè Però ora no Però mi tengo tutto Però ora ho due fucili a pompa Ok Quello normale Quello tattico Ok Quindi ho 5 colpi di uno 8 dell'altro Che non è male La mitraglietta E vedrò Ok ok Mamma no che si va avanti Secondo me la cosa importante è avere 4 armi Siamo d'accordo no? Sì Cioè alla fine è così Ah ho buttato uno scildino io là eh Ah sì? Perché se l'avevo è per prendere la quarta arma l'ho buttato Vai a prendertelo Ok va bene Perché ho notato che ti serve Sì Perché mi ha colpito purtroppo Pensavo fosse ancora dentro Stavo andando a prendermi Aspetta le spalle Vabbè ci sta Pistola Non ce ne facciamo nulla Di una desertigola Sette colpi Ovviamente l'MG Manco per sbaglio Manco l'ombra Che era l'arma più forte Per questa challenge Perché il minigun Che quando non la vuoi mai La trovi sempre Beh ma guarda dai Il minigun Almeno è un'arma che fa schifo Cioè anche da verlo Non è che sia davvero Troppo conveniente Io lo prendo Più che altro Io ho risolto Tenendomi uno slot Granate Quelle non sono Ricaricabili No in effetti È che io ho medikit Al momento Lo vorrei tenere Che non è male Sì Non è male Sì con me non è male Avendo comunque Una grande limitazione Con le armi Siamo pronti a riandare Che dici Hai paura Io molta Allora prendo sti colpi Che ho visto qua Ad esco Perché sta casa Non è luttata Tu pensa che ho preso Pur di avere un cechino O abbiamo anche un trampolino L'ho appena trovato Buono E pur di prendere un cechino Ho quello che spara 10 colpi Perché almeno così È un caricatore da 10 Vabbè È una buona tattica però Proprio tristissimi Lo so Voglio fare la chest Cioè la voglio È una bella arma Scusami Ma non la trovi Perché non la dovrei trovare Oh perché è sfiga Tu hai sfiga Tu hai sfiga Bell'arma Cos'è Dillo Dillo a bacia Vi sto la silenziata leggendaria Però aspetta Questa quanti colpi ha 16 No mi conviene la mitraglietta Sì la mitraglietta è 35 E non è di più Vabbè Ok E qua c'è un medikit Cara mia Piano terra Che tu ne hai già uno Così lo stacchi E dopo di che direi Che possiamo andare Anche scillini Mi affaccio Sono indeciso Le granate sono meglio Delle scillini no In una situazione del genere Capito In una challenge Sì Perché tu pensa Tu non puoi spalmare Con le M16 Per rompere le costruzioni Di un tipo Esatto Le granate Ti salvano la faccia Lì Tutta la vita Dov'è il medikit? Al piano terra Ti avevo detto L'ho vista Sai perché? Perché non vedi nulla Tu sei cieca Dov'è? Eccolo Ok A posto dei due LMG Niente Però scillone Questo modo tiro E poi ripartiamo Pronta a partire? Ok andiamo Sì O morire? Molto più probabile Però sì andiamo Ok Let's go Allora 30 colpi 4 colpi 8 colpi E 10 colpi Quindi posso sparare 48 52 colpi E 6 granate Dopo che tutto quello che io ho È da buttare Easy Cosa vuoi che sia? Sarà bello ritrovare altre armi Poi quella è la cosa Beh teoricamente L'unico modo per riuscire a fare questa challenge È che ogni volta che tu spari Uccidi dei player Però non è detto che abbiano armi cariche Possono avere anche 5 colpi Bravissima Che ne sappiamo Bravissima esatto È così che funziona Quindi non è strautile uccidere Lo so I player È la non reload challenge Ti odio Perché pensi sta cosa? Così gratis Perché le pensi? Non l'ho pensata io Quindi devi odiare un canale internazionale Ferre L'ho vista da lui Odierò il canale internazionale E reaggio Cavolo Questa è una bellissima challenge da fare a Ferre Per farla piangere Uh Quello è carico Così ho guadagnato 8 colpi E anche lo scillone Ottima cesta Vedi Vedi che non è male fare la cesta Vuoi sapere di chi è la colpa? Tua Non mi ricordo il nome però Come non ti ricordi il nome? No Forse era Musel Che però forse era un altro più sconosciuto Non mi ricordo Però l'ho visto e ho detto Va con questa ci divertiamo con Ferre In realtà lo volevo fare con Massi e Lalli Per tutorial in live Però poi ho pensato Dai Torturiamo Ferre Ci sta Ci sta Cos'è sta cosa? Così subisco solo io Mi sembra logico Sì è più divertente avere le tue reazioni Ferre Perché tu impazzisci un sacco No non è vero Sono calmissima Dovrò buttare questo bellissimo M16 Blue Stef Esatto Cos'altro potrà mai andare storto? Che abbiamo gente di fronte Figurati Dove? A sud Ah lo vedo Cavolo Sei un evidenziatore con quella tuta Accidenti a te Sparo o non sparo? No avviciniamoci Ok Meno sforzo possibile Meno proiettili possibili Ottima idea Poi guardali tranquilli Si fanno vedere da tutto il mondo Si è andato sulla sedia A luttare Non ci ha ancora visto Mi sa Io mi nascondo Anche io Dobbiamo giocare L'altro dove sarà? Perché non saranno tutte e due la sedia Porca miseria Stef Devo riuscire a hitarli Sei colpi E vabbè Quelli ormai si fanno la torre lì sopra Quindi buonanotte che li vai a prendere Mettila la testa fuori Cucciolo Che poi hanno entrambi Fucile la caccia e il cechino E io ho il cechino che non fa danno Quindi è una sfida Orribile Vabbè ma Andava bene anche a colpirli un po' Stef Lo so ma non li ho colpiti un po' Lo so Andava bene anche quello Quindi non ti preoccupare del danno Che si fa? Occhio eh Perché ti potrebbero vedere dalla sinistra No non mi vedo Ma sanno dove siamo secondo te? L'hanno capito? Come no? Vero Perché c'è Li vedo un po' troppo spaisati Che si guardano molto intorno Quindi secondo me non l'hanno capito bene Anche secondo me Vabbè ci sta Non proprio eh Ho sparato quattro colpi Dovevano capirlo Dai Fate qualcosa Noi non possiamo sparare Abbiamo un buon motivo per non poter sparare Voi siete giocando un game normale Dove potete fare tutte le azioni del mondo Potreste billare verso l'alto Per avere più visione Potreste avvicinarvi Lasciare Bravo Stai baitando un hit Sei l'uomo più intelligente del 2018 dentro Fortnite Così cerchiamo di capire dove sono Cerchiamo Spareranno un colpo Sì Aspetta Magari tra un po' penseranno Che ci fanno mandati È sceso uno alla destra Ok E quindi non li freghiamo Lo vedo Vedi Stanno spostando Eh porca mia Ecco perché ci ha baitato A sto punto dobbiamo billare Aspetta Non pensa di avere la testa fuori Secondo me lui Colpito E lui mi ha colpito Ok Ok ricostruisco Wops Hanno tirato anche a noi O sto No sono io Dove è l'amico? Boh Che cavolo sono finito Ah Ah Questo Oh mamma mia Che paura amico Devi calmare So di avere un trampolino Ma ormai sono troppo basso Mi dai il medikit fare? Sì Controlla che mentre non arrivino Lui è sempre lì Ma non vedo l'amico Billare 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 Ti prego Sto facendo Continua Continua Sto facendo Sto facendo E basta Allora Vieni a baitare Che cavolo Ovviamente raga Ho ricaricato per sbaglio Ma mi ricordo quanti colpi ho ancora Non venire il nervoso Come hai ricaricato? Eh sì Ho l'impulso Cioè Ma vabbè Ci posso fare L'importante è che so Esatto E poi la butto Sento dei passi Sento dei passi molto vicini Yes Sprecca meno colpi possibili Brava E basta Ma l'ho fatto bene il nervoso Arriva Stesso punto Genius Brava Genius Ma che rifai Lo stesso giro dove è morto il tuo amico Allora Questo è un colpo Quindi lo butto Con questo ne ho sei Questo secondo me Loro non l'hanno usato Esatto Good 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 Posso tirarmi un oscillino C'è la zona Ok Allora ce ne andiamo Dimmi che questo non l'hanno usato molto Tre va bene Decente Oppure questo ne ancora di più Questo come Cinque perfetto Trenta Non avevano usato neanche le M16 Ottimo Mi sono cambiata anche quello Ah corri dentro 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 Era il mio Mi sa fare Ah ok Ok No No non era mio No non penso Ok Di fronte a noi Ok Questo fucile da caccia raga ha tre colpi Non ricordo Ho altri due medikit Quindi anche se prendiamo danno poi ci possiamo Ok brava Ci possiamo curare Tranquillamente Delle tattico ho ricaricato per sbaglio Ma mi pare di avere quattro colpi Eh dai Steph smettila Beh ce l'ho di impulso Ma è normale Eh l'ho capito ma è una challenge Pronta Eh di fronte a noi alla destra A destra Ah niente Alla niente Alla niente Alla niente Alla niente Alla è scarso Alla niente Puoi venire a provare a arrestarmi Sono poco dopo Ti fai una rampina Vieni Una porta alla tua sinistra Esatto Dai basta Voglio far costruire anche qui sotto E mi continuo a sparare Vieni dalla tua destra Vai alla destra Qua? Sì Eh c'ho anche quello Il maledetto Ok sta salendo Ce la fai? No Non credo Con calma Con calma C'ho due colpi di questo Calma 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 Lì Lo hai tatto Vero Dai che noia Uno è lì sotto Però hai messo male No sta ricaricando Finiti i colpi L'avrei preso Non se ne era manca Sono morto perché io l'ho visto Esposto Ho fatto Ne approfitto E lo butto giù Infatti c'è Sono bassissimi Uno morto E muore anche l'altro Visto? Erano bassissimi entrambi Sì 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 Ovvio Che peccato Mette una pressure davvero incredibile Però è molto carina Sì e non Infatti anche me lì ho perso Perché dovevo ricaricare È mentale È mentale Perché tu Missi di più È complicata Certo Però è figa Mi piace È carina È carina Allora qua sotto Compariremo altri video Iscriviti al canale Cliccate la campanellina Se non avete ancora fatto Mi sono ingarbugliato Ma pazienza Consigliateci nei commenti Altre challenge particolari A fare Magari questa qua La riproveremo anche in live Se vi piace Ovviamente Secondo me è vincibile Ma bisogna abituarsi mentalmente Ad accettare Di aver paura Di sparare coi colpi È davvero difficile Però è fattibile Nel caso ci fermiamo così E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao